Ciao a tutti! Oggi vorrei parlarvi di siti web intesi come strumento di business. Quando si inizia a sviluppare un progetto legato al sito web è necessario infatti focalizzare alcuni punti fondamentali. Il sito web è sì uno strumento di comunicazione ma è soprattutto uno strumento di business. Un utente che arriva sul nostro sito molto probabilmente ha un problema e si aspetta di trovare una soluzione che lo aiuti a risolverlo. È fondamentale quindi individuare innanzitutto chi sono gli utenti che vogliamo far arrivare sul nostro sito, quali sono le loro aspettative, che soluzioni siamo in grado di offrire e soprattutto quali azioni vogliamo che l'utente faccia. Per noi di toni di grigio è fondamentale in poche parole individuare che tipo di conversione vogliamo ottenere ancora prima di metterci al lavoro. È questo il parametro che dobbiamo tenere a mente per poter valutare l'efficacia del nostro operato. Parlando di un sito e-commerce ad esempio, quasi sicuramente ci aspetteremo di finalizzare una vendita. Possiamo però aspettarci di raccogliere ad esempio i dati di un potenziale cliente magari a fronte di un contenuto di valore offerto o addirittura di concretizzare una richiesta di preventivo già strutturata. Tutti gli altri aspetti, la user experience, la tecnologia usata, il design, la tipologia e la qualità dei contenuti sono aspetti molto importanti ma necessariamente una conseguenza di una strategia ben precisa definita a monte. Ciao! Grazie! 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 Grazie!